Ti capita spesso di andare a letto ed essere raggiunto dal tuo amico peloso prima ancora di chiudere gli occhi. Alcuni cani si rannicchiano ai tuoi piedi, mentre altri si sdraiano sopra la tua testa o si mettono sotto le coperte. Ma perché alcuni cani preferiscono il tuo letto al proprio? Ed è sicuro lasciare che il tuo cane dorma con te? In questo video parleremo del motivo per cui i cani amano dormire con te, e se è sicuro farlo. Numero 1. Li fa sentire al sicuro. Uno dei motivi principali per cui il tuo cane vuole dormire vicino a te è perché si sente sicuro e fiducioso nella tua presenza. In natura, dormire mette i cani in una posizione molto vulnerabile. Quando il tuo cane si sdraia su un fianco e cade in un sonno profondo accanto a te, è un segno che si fida di te e si sente al sicuro. Il tuo cane sa che lo proteggerai e lo manterrai al sicuro se dovesse succedere qualcosa. Ecco perché potresti notare che il tuo cane resta con te più spesso quando qualcosa lo rende nervoso, come la presenza di uno sconosciuto, un temporale, fuochi d'artificio o rumori forti. Prima di passare al prossimo punto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Numero 2. Il tuo cane ti sta dimostrando amore. In poche parole, se il tuo cane dorme con te, significa che ti ama. Il tuo animale domestico si sente al sicuro con te, vuole proteggerti, ama il tuo calore e profumo, e vuole dimostrarti amore e affetto. Dormire nello stesso letto è una dimostrazione del loro amore e può aiutare a rafforzare il legame tra te e il tuo animale domestico. Numero 3. Vogliono proteggerti. Se fossimo allo stato brado, dormire sarebbe il momento in cui siamo più vulnerabili ed esposti ai predatori. Ecco perché molti cani preferiscono dormire vicino ai loro compagni umani, comprendendo la necessità di proteggere i loro padroni da qualsiasi potenziale danno. Anche se non c'è una minaccia attiva, i cani spesso si siedono in modalità protettiva o difensiva, pronti nel caso in cui dovesse presentarsi un pericolo o un intruso. Numero 4. Al tuo cane non piace la sua cuccia. Un altro motivo per cui il tuo compagno canino potrebbe dormire con te è perché non gli piace o non si sente a suo agio nella propria cuccia. Se è così, è probabile che troverà un altro posto dove dormire, come il tuo letto o il divano. Se ritieni che questo sia il motivo per cui il tuo cane dorme con te, considera di prendere per lui un'altra cuccia calda e accogliente, e posizionala accanto al tuo letto. Numero 5. Hanno freddo. Dormiranno anche accanto a te per conservare il calore corporeo. Quando il tuo cane si accoccola con te, sta cercando calore e ti aiuta a stare al caldo. Questo è particolarmente comune con le razze più piccole con pelo sottile, poiché hanno più difficoltà a mantenere una buona temperatura contro al freddo. Bisogna tenere presente che il comfort è molto importante per i cani, e a causa dei diversi tipi di pelo, alcuni cani patiranno il freddo più di altri durante i mesi invernali. Prima di scoprire l'ultimo punto, se ti sta piacendo il video, lascia un like e supporta il canale con una donazione tramite il pulsante Grazie di YouTube. Non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Ma è sicuro dormire con il tuo cane? Se lasci che il tuo cane dorma con te, devi considerare alcune cose. Dormire nello stesso letto può essere un'abitudine positiva sia per te che per il tuo amico peloso. È però molto importante mantenere una corretta igiene del cane, soprattutto se esce da casa. Altrimenti potrebbe non essere l'unico visitatore di quel letto. Cimici, parassiti e sporcizia potrebbero anche essere presenti. Indipendentemente dall'igiene, dobbiamo considerare se dormire sullo stesso letto fornisce un riposo adeguato all'animale e a noi stessi. Se scopri che dormendo con il tuo cane non ricevi riposo sufficiente, scegli di posizionare la sua cuccia vicino al tuo letto. Secondo una recente ricerca della Mayo Clinic, condividere il tuo letto con il tuo compagno canino può effettivamente migliorare il tuo sonno. Coccolare il tuo animale domestico porta anche al rilascio di ossitocina, la sostanza chimica dell'amore che riduce lo stress e migliora il tuo umore. Può anche aiutare ad abbassare la frequenza cardiaca, alleviare l'insonnia e tradursi in una qualità del sonno migliore. In breve, finché sia tu che il tuo cane siete sani, è perfettamente sicuro rannicchiarsi ogni notte. Assicurati solo che il tuo cane non abbia pulci o zecche. Bene, con questo abbiamo terminato. Grazie per la visione. Ciao!